Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di MeteoInCalabria.it. Continua la fase di tempo stabile e soleggiata sulla nostra regione. Nei prossimi giorni le temperature subiranno un leggero rialzo, ma risulteranno comunque in linea con le meni stazionali o tutt'al più leggermente al di sopra. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì cieli sereno poco nuvolosi ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili deboli piovaschi. Temperature in leggero rialzo. Venerdì generale condizioni cieli serene o poco nuvolosi. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità per lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con possibili deboli piogge. Temperature stazionarie. Adesso il concetto sguardo a mari e venti. Giovedì mari generalmente poco mossi con venti deboli di direzione settentrionale. Venerdì mari calmi o poco mossi con venti al regime di imprezza. Ed infine prima di salutarci vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metoincalabria.it potrete seguirti sulla nostra pagina Facebook Meto in Calabria. Per l'appuntato di anno è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.